Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. ET Alert, questo è il nome della app che dal prossimo 21 settembre invierà un SMS a tutti i Veneti. Il segnale è chiaro e univoco, arriverà l'SMS con un fischio, quindi con una nuova sonneria. Di cosa si tratta, Sessore Bottacini? ET Alert è il nuovo sistema di allertamento pubblico nazionale gestito direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e ha lo scopo di inviare a tutti i telefonini in maniera indistinta che si trovano in una determinata zona che potrebbe essere investita da un evento calamitoso o piuttosto che altro tipo di emergenza, dei messaggi per aiutare la popolazione a conoscere sia l'evento e sia quello che ciascuno può fare per cercare di ridurre il rischio a cui è esposto. Si tratta di un test per verificare che il sistema funzioni e che decolla anche in Veneto in via sperimentale. L'SMS per ridurre al minimo l'esposizione al rischio dei cittadini, ovvero per eventi di emergenza in corso che si potrebbero verificare, quali fatti di natura sanitaria, situazioni meteo rilevanti, incidenti industriali, maremoto e situazioni di rischio dighe. Così come anche norme comportamentali come quelle quando c'è una piena di stare distanti dai ponti. Sembra banale, ma io verifico ogni volta che c'è una piena, è pieno di persone che vanno sui ponti o sugli argini esponendosi a un rischio inutile. Quindi credo che sia uno strumento che può essere utile anche per creare e migliorare una cultura della sicurezza in ogni singolo cittadino.